Mi sentite? Mi sentite bene? Secondo me Stefano sta sistemando la camicia nei video sempre perfetto. Deformazione professionale. No, no, stasera fra l'altro sono anche easy, sono anche caro Mauro, sono anche tranquillo insomma da questo punto di vista. Vediamo se mi vedete anche in video, che così sistemo anche la telecamera. Yeah! Ci siamo! Ciao a tutti, buonasera. Mi sentite? Mi vedete anche a questo punto? Anche se voglio vedere se riesco a farmi vedere a chiaro schermo. Dai! Ah, che bello! Vedete meglio adesso, no? Siamo anche live on Facebook, quindi saluto anche gli amici di Facebook. Sono andati live su Facebook come altre volte in quanto le registrazioni di questo corso online sono andate veramente bene. nel senso che sono arrivate tantissime persone e non so se tutti riusciranno ad accedere alla diretta. Per cui, cioè, di fatto la piattaforma, per cui andiamo anche in diretta a Facebook e voglio salutare anche gli amici di Facebook. E poi oggi ho avuto anche l'onore di essere introdotto in questo corso live da Gabriele Cortigiani. Ho fatto una diretta appunto per descrivere il mio corso. e visto che so che Gabriele Cortigiani è dall'altra parte dello schermo e mi sta ascoltando e mi sta vedendo, saluto anche lui e ho l'occasione di salutare anche lui. Bene, mi sentite e mi vedete a quanto pare, quindi sono contento. Scusate se ogni tanto vado a guardare anche quella che è la chat. Vado a ricondividere lo schermo perché stasera andremo a parlare proprio di questo. Da 0 a 500 mila euro il viaggio della libertà, che non è un titolo tirato a caso, è un risultato di fatto. E anche se, voglio subito iniziare in maniera diretta, anche se diciamo che il titolo fa la sua parte, anche se di fatto quello che cattura in questo titolo del webinar è 500 mila, è questo, quello che conta sono altre due variabili, cioè 0 e viaggio. Perché quello che divide, un punto di partenza, da un punto d'arrivo che è sempre un risultato, è proprio il percorso, il viaggio che fai per arrivarci. Ed è questo, un po' di questo aspetto voglio parlare stasera in particolar modo. Voglio anche vedere un attimo la chat, perché vi faccio una domanda. Chi è che è al primo corso online? Cioè, chi è che ci vede quella prima volta in questo particolare appuntamento gratuito che facciamo per diffondere l'educazione finanziaria in Italia? Io, 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 mamma mia quanti siete. Mi fa piacere, mi fa piacere. Così poi ci darete anche un feedback. E da dove vi collegate, da dove vi collegate, non scrivete, io mi collego da, che ne so, Tirli, in provincia di Grosseto, scrivetemi la Roma, Frusinone, Palermo, Treviso, Roma, Pisa, Pisa, Toscana, bene, io Latina, Mauro, Mauro ormai, Mauro noi è come se ci conoscessimo già, di fatto, ci conosceremo al corso del 27-28 ottobre, però è come se ci conoscessimo da una vita. Venezia, Venezia, Latina, Svizzera, Canton Ticino. Qualcuno mi dice da Trento. Eh, fra l'altro io sabato sarò a Madonna di Campiglio per tre o quattro giorni. Che bello, che bello. Quindi vi collegate un po' da tutta Italia. È bello che, prendo il controllo, riesca un po' a collegare tutti, da questo punto di vista, quindi tutta Italia, e mi fa veramente piacere. Aspettate, qui mi arrivano anche i messaggi di Facebook, per cui tolgo un attimo quella che è l'accesso a Facebook, se no vedete tutte le notifiche che arrivano, insomma non è propriamente carino. Vediamo se riesco un attimo a uscire. Sì, fra l'altro siamo anche in diretta, appunto, su Facebook. Quindi saluta anche gli amici di Facebook, ma saluta anche in particolar modo tutti quelli che si stanno collegando. Allora, da 0 a 500 mila euro. Iniziamo subito perché starete un'ora, un'ora e mezzo insieme a me. Chissà che non siano due, per chi desisterà veramente, chi ha le corde dure. Ciao, Bib, come stai? Anche a Bib, ci vedremo sicuramente il 27-28 ottobre a Prato, al corso. Ma che bello, che bello, che bello. Fra l'altro ricordate che questo corso online in particolare, alla fine del corso online faremo anche un regalo. Perché visto che abbiamo raggiunto il record di iscritti, Gabriele lo ricordava nella diretta di oggi, visto che abbiamo raggiunto appunto il record di iscritti, faremo anche un bel regalo. Per cui restate fino alla fine, perché chi è registrato, chi è entrato nella stanza, chi resta collegato fino alla fine, riceverà anche un bel regalo. Questo giusto per non farsi mancare niente. Allora, iniziamo subito nel nostro viaggio. Va bene, Mauro, non ti preoccupare. Iniziamo subito con il nostro viaggio, perché in questo viaggio, di fatto, da 0 a 500 mila euro il viaggio delle libertà, come già detto in tanti, ci hanno chiesto, Stefano ti arrabbierai in questo webinar? No, non mi arrabbierò. Non è che mi arrabbio, è che di solito sono un po' entrante, per quanto riguarda i miei interventi. Perché mi rendo conto che l'Italia in questo momento sta vivendo un momento particolare, sta vivendo un momento veramente decisivo, in cui le persone o scelgono di stare da una parte, o scelgono di stare dall'altra. Viviamo in una sorta di apocalisse, l'apocalisse biblica è quella che dividerà i buoni da cattivi, ecco, e adesso saremo a dividere veramente quelli che faranno la differenza del futuro e quelli che invece purtroppo non la faranno. Però tutto questo è diviso veramente da una decisione, una decisione che come verrai devi prendere oggi, perché noi abbiamo cominciato a parlare di educazione finanziaria, educazione agli investimenti, educazione alle gestioni dei propri risparmi dieci anni fa. Solo dieci anni fa, come ho scritto nella pagina del webinar, parlava alle persone di tempo, di avere più tempo, di avere più soldi, di avere più opportunità di pensare a se stessi e alle proprie famiglie, e dieci anni fa mi dicevano, Stefano, ma te lavori 14 ore al giorno, cioè cosa vieni a raccontarci che è possibile avere più tempo? E avevano ragione, avevano ragione, perché era vero, cioè di fatto cominciavo a gestire i miei risparmi, grazie a te al fatto avevo conosciuto Gabriele, in autonomia, però lavoravamo un casino, casino, non avevo mai tempo. E loro mi dicevano giustamente, ma non hai tempo tu, cosa vuoi dire a me? Adesso, a distanza di dieci anni, che ho lasciato il mio lavoro, che vivo di investimenti, che insieme a Gabriele portiamo avanti questo progetto, e dico loro, guarda, dico le stesse cose, dicevo prima, e loro mi dicono, eh ma per te è stato facile. Allora vedi che alla fine, se hai una scusa che tu ci creda, o che tu non ci creda, avrai sempre e comunque ragione, perché quello che alla fine ti fa decidere è appunto una tua scelta, una tua scelta che alla fine ti porta verso un risultato. Sicuramente quello che tira il titolo di questo webinar è il risultato, ma quello che conta è sempre il punto di partenza, perché, Gabriele, siamo veramente, veramente partiti da zero per arrivare a raggiungere certi risultati e ti mostriamo questo webinar. E sicuramente tutto quello che ci sta in mezzo è un percorso, un percorso fatto di fallimenti, un percorso fatto di decisioni, un percorso fatto di studio, di studio approfondito, che ovviamente oggi ci ha portato a godere di tutto questo. Siamo stati anche fortunati in tal senso. E visto che abbiamo avuto tanto, vogliamo anche condividerlo con gli altri. Mauro, ci credo, ci credo. Allora, cosa scoprirai? Scoprirai perché oggi devi prendere una decisione. Oggi, anche se mi ci vuole mezz'ora, non mi interessa, ti spiegherò in che condizione è l'Italia. Cioè, che condizione stiamo vivendo e cosa ci aspetta da oggi ai prossimi 3-4 anni, non di più. La strategia semplificata, perché ti dirò e ti mostrerò quella che è la strategia che io e Gabriele utilizziamo e che ci ha veramente salvato la vita, soprattutto ti presenterò i risultati della strategia, che fa parte di un protocollo che abbiamo chiamato Prendo il controllo. Perché prendo il controllo? Perché siamo convinti che le persone da ora in poi, soprattutto da ora in poi, debbano prendere il controllo del proprio denaro, imparare a gestirlo in autonomia, senza affidarla a nessuno, senza affidarla alle banche, senza affidarla a promotori finanziari, perché è l'unica strada che hai per costruirti un ideale futuro. Ti faremo vedere il nostro punto di vista, ti faremo vedere perché diciamo questo, ti faremo capire in questo corso perché siamo convinti di questo e cosa ci ha portato al risultato che ha visto in sovrimpressione. Cominciamo la storia. La mia storia inizia negli anni Ottanta. Inizia negli anni Ottanta, anche se io sono un anno nel 1976, e dici, Stefano, perché inizia negli anni Ottanta e non inizia il 3 settembre, fra l'altro fra quattro giorni, il mio comprensimo, il 3 settembre 1976, perché non inizia il 3 settembre del 1976? Perché io sono una persona normalissima, la cui data molto probabilmente di nascita non verrà ricordata nei libri di storia, come può essere quella di Leonardo, o quella di Dante, o quella di qualche poeta, o di qualche personaggio famoso. La maestra non inizia negli anni Ottanta. Chi è della classe 76, 70, 80, perché dirò delle cose, magari qualcuno, 77, Mauro, perfetto, addirittura sei più giovane di me. Che bello. Inizia gli anni Ottanta, perché gli anni Ottanta, 68, 79, scrivete, scrivete, che mi interessa sapere, ok? Magari c'è anche qualche ragazzo giovane, tipo Massimiliano, tipo Giovanni, Massimiliano, siamo lì, Giovanni 85, 94, Alberto, vabbè Alberto, dai, tanto ti racconto una storia, poi, magari, 94, te la racconti i tuoi genitori, magari. Ok? Ok? Perché inizia negli anni Ottanta? Perché gli anni Ottanta, io sono nato nel 76, sono stati gli anni della mia formazione. Gli anni in cui, di fatto, sono stati inseriti nel mondo dell'istruzione, della formazione vera e propria, in cui sono stati inseriti nel contesto genitoriale, che i miei genitori, ovviamente, mi hanno cresciuto con delle credenze, con delle convinzioni, con dei valori, e io sono grato ai miei genitori perché nella loro umiltà, di fatto, di non avermi dato tutto nella vita, però, mi hanno dato una cosa, che è quella di capire l'importanza del risparmio, di capire l'importanza dell'etica, di capire l'importanza dei valori veri, se vuoi. e non sono stato un ragazzo che ha avuto tutto, anzi, tutt'altro. Però gli anni Ottanta, di fatto, sono gli anni anche in cui entri nei primi contesti scolastici, inizi ad andare a scuola, inizi a entrare nella società. Gli anni Ottanta sono stati caratterizzati, per me, da due fattori. Ho ripreso una, peraltro, una vignetta, ha utilizzato Gabriele nell'ultimo webinar, perché mi è piaciuto molto. Negli anni Ottanta, ci dicevano a noi, degli anni Ottanta, ditemi voi se è vero. Sembra la mia storia, dice Mauro, ma è la storia di tanti, Mauro, perché è la storia di tanti signori di nessuno, perché tutti nasciamo, quasi tutti nasciamo come signori di nessuno. Poi ci sono quelli che riescono a fare, a scrivere una storia, altri che riescono a scrivere un'altra, però, di fatto, qui siamo gente normale, tutti, credo, a questo corso online, siamo gente normale, la Adda, Facebook, ci vedono, siamo gente normale, che magari cercano di fare il meglio per riuscire a fare in modo che la loro vita sia migliore. E parliamo proprio di questo oggi. I genitori mi dicevano che il lavoro è veramente molto importante, studi e se sei bravo fare una bella carriera. Io ho eseguito la lettera, cioè nel senso io ho capito l'importanza del lavoro, ho capito l'importanza di dover studiare per raggiungere una posizione diversa, fare una carriera e guadagnare di più, perché negli anni Ottanta c'era una generazione che veniva dal dopoguerra, gli anni Sessanta, gli anni Settanta, io credo che siano stati anni, è vero, di inizio boom, di inizio crescita, di inizio salita, però devono essere stati anni veramente difficili, in cui i nostri genitori che venivano, che vivono in uno Stato che di fatto aveva perso la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, capivano anche l'importanza di cosa voleva dire accumulare per domani, risparmiare per domani, cercare di rinunciare un qualcosa oggi per avere di più domani, ok? E quindi a noi figli cosa ci dicevano? Ci dicevano guarda, studia, perché affinché quello che ho passato io tu non lo debba passare, tu non lo debba vivere, tu abbia una vita migliore. E io personalmente mi sono anche adoperato in questo senso, adoperato in questo senso, perché ho studiato, ho fatto il mio superiore, ho fatto l'università, ho fatto l'economia, e poi sono riuscito anche ad avere una sorta di carriera in questo senso, per l'amor di Dio, sono entrato a far parte di aziende importanti, gestito commerciale di aziende importanti, poi ho lasciato, perché, come ti dirò dopo, ti dirò perché, però di fatto ho seguito questo indotto. Così come ci dicevano, un giorno ti comprerai una bella casa che rappresenta l'investimento più sicuro, perché negli anni Ottanta di fatto acquistare una casa voleva dire veramente, veramente fare un investimento giusto, nel senso che le case venivano prese come immobili, immobili che cresceranno sempre di valore, come l'oro, crescerà sempre di valore e quindi se acquisti una casa sicuramente ti tornerà sempre bene. Un retaggio culturale che ci portiamo, che ci siamo portati dietro tanto tempo, tanto che oggi magari non è più valido, perché chi ha acquistato una casa negli anni 2000 ditemi voi se ancora vale i soldi che ha speso gli anni 2000, anzi, il mercato delle case come ci ha spiegato bene Gabriele Cortigiani nell'ultimo corso online e ti invito anche a seguire il prossimo perché ce ne saranno altri, ci ha spiegato che ovviamente oggi è bene investire negli immobili, è giusto investire negli immobili, ma lo si può fare in maniera diversa. Il protocollo prendo il controllo ti spiega anche come investire sugli immobili senza comprare casa e l'ha spiegato lui nel corso online che ha tenuto l'ultima volta. Perché? Perché investire in una casa impegnando del capitale in un investimento che non si sa se crescerà nel futuro non è detto che cresca nel futuro il valore. Gli ultimi anni ci hanno insegnato, cioè non è una cosa intelligente. La cosa intelligente è diversificare e fare in modo che i soldi ti producono altri soldi. Quindi, la mia storia inizia negli anni 80 come quella di tanti altri ragazzi che quando tornavano a casa da scuola c'erano negli anni 80 non so chi se ricorda c'erano i famosi manga giapponesi le anime giapponesi c'erano i vari mazinga i vari goldrake i vari gigrobot d'acciaio mamma mia mamma mia veramente che cosa facevano vedere? Facevano vedere che c'erano dei ragazzini che guidavano questi giganti robot che salvavano il mondo e quindi magari tu tornavi dalla scuola vedevi questi ragazzini nei cartoni animati che salvavano il mondo e tu ti dicevi porca miseria loro sono già lì che salvano il mondo io sono ancora qua che devo ancora studiare che devo ancora dire la mia e questo da una parte ci ha creato l'importanza di sognare l'importanza di raggiungere gli obiettivi l'importanza di salvare il mondo dall'altra magari andavamo a scuola gli anni 80 erano anche quelli dei paninari quelli che si investivano tutti i firmati con Moncler con mi ricordo i Levis le Timberland ve lo ricordate questa cosa io non ne facevo parte perché venivano da una famiglia umile e quindi di conseguenza magari non mi potevo permettere i jeans firmato la maglietta firmata la scarpa firmata cioè tutte queste cose qua io ne stavo un po' fuori e già essere fuori a quel tempo voleva dire essere quasi esclusi da un certo punto di vista ed è quello che succede a tante persone è successo e succede oggi in altri contesti gli anni 80 però hanno segnato anche un'altra cosa fondamentale cioè a livello questo a livello micro per noi giovani ma a livello macro stava succedendo un'altra cosa cioè i governi dell'epoca dettati senza fare politica ovviamente tanto sono dati storici cioè all'epoca c'era Craxi c'era Andreotti c'era il governo Amato cominciavano a far leva su quello che è chiamato il debito pubblico gli anni 80 erano segnati da un PIL che era in esplosione dice Stefano cos'è il PIL? il PIL è il prodotto interno lordo ora non voglio entrare nelle definizioni di cos'è il PIL da cosa è fatto il PIL la spesa pubblica la spesa dei consumatori la bilancia commerciale eccetera eccetera il PIL è il valore delle merci finite dei servizi prodotti in un paese in un determinato periodo di tempo è il fatturato di un paese è il fatturato dello Stato d'Italia e il PIL il PIL stava crescendo e i politici dell'epoca anche per diciamo così incentivare i loro magheggi elettorali cominciarono a far leva sul debito pubblico il debito pubblico invece cos'è? il debito che lo Stato ha verso altri soggetti economici che possono essere le imprese le banche altri stati com'è che funziona il debito pubblico lo Stato praticamente emette dei titoli BOT BTP CTP CTZ insomma hanno un casino di nomi e dice guarda se tu mi presti i soldi io in cambio a 3 anni a 5 anni a 10 anni a secondo del tipo di obbligazione emessa io ti rendo quei soldi con un tasso di interesse e le banche gli stati e le persone compravano praticamente questi titoli di Stato incrementando quello che era ovviamente il debito pubblico in particolar modo la politica che ripeto per finanziare ancora c'è chi li compra ovviamente dice Mauro per finanziare tutto quello che era le loro campagne elettorali quello che era la spesa pubblica visto che il PIL andava bene incrementava anche il debito pubblico cos'è successo? che nel 1992 se ricordo bene fu l'anno il primo anno in cui il debito pubblico superò il PIL cioè l'importo del debito dello Stato superò il debito del PIL superò il 100% arriviamo in questo modo nel 2018 dove l'Italia e l'80% delle famiglie italiane ha questo problema quindi lascio un attimo la storia di Stefano per spostarmi su una storia molto importante che poi ci porta ai giorni nostri ovvero cos'è che sta caratterizzando la crisi dell'Italia la crisi del nostro Stato in questo momento è il fatto che il debito dello Stato sta superando di molto quello che è il PIL quello che è il fatturato dello Stato Italia siamo arrivati nel 2018 dove abbiamo un debito pubblico che è il 130% del PIL quindi se il debito pubblico del 2017 era di 2400 miliardi il PIL si attestava a 1700 miliardi e quando in un'azienda normale ed è questo che a me mi fervora e mi fa impazzire quando in un'azienda normale il debito supera il fatturato i debiti i finanziamenti superano il fatturato di un 130% l'azienda e te lo dico per esperienza perché con l'azienda ho a che fare l'azienda salta in aria e non ci sono soluzioni perché se un'azienda si indebita molto di più di quello che è il proprio fatturato salta in aria e questa cosa del debito a livello macro ne abbiamo parlato anche in un recente intervento all'Università di Siena sulla ristrutturazione del debito delle famiglie è stato trasferito anche nella mentalità delle famiglie perché se fino agli anni 80 ti hanno detto guarda risparmia perché noi abbiamo fatto la guerra abbiamo fatto la fame siamo usciti in un periodo difficile guarda risparmia fai la formichina per domani che ti sarà utile negli ultimi 30 anni la frase o comunque no la frase la credenza che si è installata anche all'interno delle famiglie private è il fatto che si potesse comprare qualsiasi cosa anche se non ci si poteva permettere la famiglia tradizionale dove ora il marito e la moglie lavorano tutte e due differentemente dagli anni di più rispetto agli anni 70-80 è una famiglia che guadagna meno di quanto spende perché? perché non può comprare una casa bene fa il mutuo e accede al finanziamento non può comprare la macchina perché non se lo può permettere ci accede tramite un finanziamento non può pagarsi un viaggio ci accede tramite il finanziamento però tutto questo fa in modo che alla fine le spese finali del mutuo del finanziamento della casa del finanziamento di tutto quello che fai più le spese e il terreno di vita vanno a superare quello che è l'entrata effettiva che una famiglia può avere quindi in questo momento lo Stato Italia e la famiglia Italia hanno lo stesso problema ora qual è il punto su cui riflette non voglio farci una lezione d'economia però se non si capisce questo veramente non si può capire tutto quello che sta dietro il protocollo prendendo il controllo io cerco anche di spiegarlo in maniera chiara e in maniera semplice in modo che tutti possano capire mi capite fino adesso? mi capite fino adesso? certo ok chiarissimo l'importante è che sia chiaro mi sentite anche bene perché qualcuno mi dice che guarda mi avvicina anche il microfono per essere più caldo sì sì ok 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 supportimmi il microfono va bene? che mi dite microfono? perfetto mi sono tutti perfetti da smartphone sembra basso chi è collegato a smartphone si colleghi da pc non sto scherzando cercherò di essere l'ho avvicinato un po' per essere ancora più chiaro però capiamo bene questo punto perché se non si capisce questo punto non si capisce nemmeno tutto quello che sta dietro il protocollo prendo il controllo perché se non si capisce dove ci hanno portato fino ad oggi non si può nemmeno capire come trovare la soluzione ideale allora nel momento in cui una famiglia è costretta si vede costretta di fatto si vede costretta perché io non do colpa alla famiglia o all'ignoranza della famiglia che si indebita per più di quello che incassa però è chiaro che se una famiglia a un certo punto vede che le entrate sono minori rispetto all'uscita e cosa fa? cerca di lavorare di più lavora di più prende un secondo lavoro fai un qualcosa di diverso per cercare di avere più entrate però magari dopo i tassi dei beni che hai comprato a prestito aumentano e non ti basta più neanche fare il secondo lavoro e allora lavori 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 e alla fine torni a casa la sera tardi non ti godi i figli non ti godi la vita non ti godi le sue passioni perché devi rinunciare a tutto questa è una situazione in cui si trovano veramente tantissime famiglie ed è figlia di una situazione macro che è quella dello Stato Italia è vero è cioè in cui lo Stato Italia si trova con un rapporto debito-PIL quindi debito-fatturato che è superiore al 130% ora per per dirti in che situazione siamo per diminuire quello che è il rapporto debito-PIL o diminuisci il debito o aumenti il PIL aumentare il fatturato delle aziende dei servizi in Italia nel 2017 il PIL è aumentato dell'1,5% ma l'1,5% è un'inezia rispetto ai 7 punti percentuali che hai perso dal 2010 al 2018 questo è un punto di partenza da capire per aumentare il fatturato dell'azienda e per fare in modo che l'azienda che produce scarpe da 100 scarpe al giorno riesca a produrre nel 200 ci sono due strade o aumenti i dipendenti ma non se ne parla perché il lavoro dipendente sta sparendo e le aziende non ne vogliono sapere ad assumere altre dipendenti o aumenti la produttività e quindi aumenti l'investimento in tecnologie ma se un'azienda può aumentare l'investimento in tecnologie che gli porta al fatturato a produrre 100 scarpe al giorno a 200 scarpe al giorno ha bisogno di soldi e chi gli dà i soldi all'azienda? ora da una parte noi viviamo anche un momento favorevole in tutto questo perché? perché il presidente della Banca Centrale Europea che è quella che stampa gli euro perché ovviamente tranne l'euro abbiamo scelto la sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea è un certo Mario Draghi e Mario Draghi per quanto se ne dica e ti dico io mi stanno le cose è un signore che sta incredibilmente aiutando l'Italia ma sta tanto aiutando l'Italia perché non fa altro che stampare i soldi ok? e girarli alle banche italiane le banche italiane in teoria con quei soldi dovrebbero finanziare l'azienda dovrebbero finanziare le imprese dovrebbero finanziare le famiglie ma non lo fanno perché hanno paura di perderli perché hanno paura che le aziende non rientrino perché hanno paura che le famiglie non li rendino soldi allora cosa fanno le banche italiane con tutti i soldi che ti arrivano? Comprano i titoli di Stato comprano i BTP comprano i bot comprano i CCT comprano tutte queste robe qua andando a incrementare il debito pubblico e se uno vuole i soldi l'azienda vuole i soldi dice guarda io ho bisogno di 100.000 euro da investire su un macchinario che mi aumenta la produttività la banca gli dice bene io te li do 100.000 euro ma ce l'hai 100.000 euro sul conto? E io dico ma se ce l'avessi non te li chiederei e io dico bene allora non te li posso dare quindi viviamo in una situazione in cui effettivamente i soldi ci sono e sono dentro le banche italiane ma le banche italiane non li prestano per cui viviamo in una ruota di fatto del cresceto dove l'Italia non riesce ad aumentare quella che è la produttività e aumenta conseguentemente il debito e quando arriverà un qualche populista di turno e ti dirà bene sai che si fa il debito a un certo punto non si paga l'Europa e dice che non si può pagare sa cosa ti dirà l'Europa l'Europa ti dirà bene signor X ma lo sai che il debito tuo è in mano per il 66% alle banche italiane perché il debito dell'Italia 66% in mano alle banche italiane per cui se le banche italiane non potranno pagare quel debito e saltano in aria i soldi verranno rimessi dai correntisti oppure verrà fatto a breve verrà fatto veramente a breve o una tassa patrimoniale sui correntisti sui contribuenti italiani o verranno tagliate le pensioni o verranno prese provvedimenti che comunque saranno pagati dai cittadini italiani perché questa è la situazione il signor Draghi che dovrà interrompere il quantitative easing l'emissione di soldi nel circuito del credito dovrà interromperlo entro mi sembra l'ottobre dicembre del 2018 ma soprattutto il signor Draghi lascerà la presidenza della banca centrale europea nell'ottobre del 2019 e quando dell'ottobre 2019 alla presidenza della banca europea arriverà un altro signor X io non credo che quel signor X avrà tanto interesse nel salvaguardare l'Italia per cui siamo se dieci anni fa dicevo attenzione signori siamo ad un momento di svolta oggi più che mai è fondamentale questo è fondamentale prendere una decisione da che parte vuoi stare vuoi vedere gli eventi accadere o vuoi vedere o vuoi essere praticamente protagonista della tua svolta questo è il punto perché strade cioè non c'è alternativa o decidi o non decidi se continui a fare oggi quello che hai fatto ieri sicuramente avrai dei problemi che tu abbia un bel lavoro che tu abbia un lavoro di cacca o che tu non lo abbia sicuramente viviamo in un paese se ci vogliamo stare in un paese veramente a rischio che non è saltato in aria perché nelle banche italiane c'è un casino di soldi nelle banche italiane ci sono tanti tanti soldi dei correntisti italiani che sono i risparmi della nonna del nonno di italiani in continuo di risparmiare ne parlavamo ripeto sempre all'università di Siena poco tempo fa in un intervento in cui prendo controllo è stato presentato come soluzione al problema del debito soluzione attiva al problema del debito e ci facevano vedere numeri che i risparmi italiani stanno aumentando stanno diminuendo stanno aumentando e nel momento in cui dovranno tagliare quel debito pubblico a quei risparmi ci mettono le mani non c'è soluzione non c'è altra soluzione ok? non è che vi voglio spaventare da questo punto di vista però è la verità in tutto questo in tutto questo dice bene Stefano la situazione è questa cosa si fa? allora io propongo una soluzione quella che è stata la mia soluzione quella è stata la soluzione mia di Gabriele è una magari ce ne sono tantissime però questa è una cioè di fatto quella che ci ha salvato la vita a me e a lui per cui visto che noi ci siamo messi al sicuro a questo punto di vista così come stanno facendo tanti studenti del protocollo prendo controllo ti farò vedere anche i risultati è bene che anche tu adesso possa avere l'opportunità di fare questa decisione nel momento in cui tu stasera ti sei collegato alle 21.15 anziché vedere il film alla televisione sei qua e visto che siete tanti sei qua ad ascoltare delle informazioni ad ascoltare delle informazioni importanti la domanda è quanto sei ricco? è una domanda provocatoria che però rimanda ad un ad un fatto cioè il fatto che io dieci anni fa ho la fortuna di conoscere Gabriele Fortigiani dieci anni fa io ero un corso sempre appassionato di mercati di trading se vuoi di investimenti sono sempre stato appassionato anche quando lavoravo e anche quando facevo insomma le mie attività di consulenza commerciale alle aziende a me i mercati sono sempre una cosa che mi sono piaciuta e dieci anni fa conosco Gabriele Fortigiani conosco un corso dove io ero a presentare un libro che se anche oggi alla terza edizione Destinazione Eccellenza è stato scritto dieci anni fa ero a presentare questo libro a questo corso e allo stesso tempo frequentavo questo corso e Gabriele era anche lui a questo corso se non che ci siamo conosciuti e una cosa che ha accumulato subito me Gabriele nonostante per certi versi siamo anche tanto diversi molto diversi a livello personale a livello caratteriale però c'è una cosa che ci ha accumunato e che ci è piaciuta subito a entrambi ed è un principio per cui anche tante persone diverse possono essere accomunate il fatto di avere un grande rispetto per la vita e un grande rispetto per il tempo ci siamo detti ma noi vogliamo veramente lavorare tutta la vita come asini come somari perché il rischio oggi è questo il rischio che tu lavori tutta la vita che di fatto per esigenze il sistema ti faccia andare in pensione a 80 anni perché questo è cioè non è che quando è stata fatta la riforma del sistema pensionistico è stata fatta perché lo vogliono mettere in tasca gli italiani non è questo cioè è un'esigenza dovuta perché un altro aspetto che è accaduto in questi 30 anni è che la demografia dell'Italia è totalmente cambiata se prima c'erano quattro lavoratori che mantenevano un pensionato oggi c'è un lavoratore che mantiene un pensionato per la disoccupazione giovanile per il fatto che c'è meno lavoro per il fatto che il lavoro dipendente andrà a sparire entro pochissimo cioè in Italia cresciamo poco a livello di PIL in America in USA il PIL del secondo semestre trimestre del 2018 era più 4,5% più 4,5% cioè mi parlano male di Trump di tutto quello che fa ma Trump porta a casa il 4,5% in un trimestre se lo facessimo in Italia tempo 5-6 anni risolvevamo problemi allora visto che viviamo in un paese che è questo e che l'unica alternativa è emigrare ma io non intendo emigrare perché non mi interessa voglio vivere qui e voglio fare la differenza qua conosco Gabriele e dico Gabriele una delle cose che è comune appunto è il discorso della libertà finanziaria cioè il fatto di dire non voglio aspettare la pensione per essere libero finanziariamente non voglio aspettare la pensione per curare la mia vita per curare quello che mi piace per curare quello che voglio per dare fiato alle mie passioni per vedere crescere i miei figli per dare per non discutere con la mia finanziata per problemi di soldi ecco questa è una cosa che ci ha sempre accomunato e ci siamo fatti un culo così scusate il termine negli ultimi 10 anni per arrivare ad un risultato misurabile e tangibile ma la libertà finanziaria tanto decantata dai business online e da tante realtà online che oggi proliferano è fatta di due elementi uno è il denaro e uno è il tempo ma quello che conta di più è il tempo non sono i soldi perché se tu insegui soldi sarai sempre quello a cui i soldi mancano cosa fa il dipendente che ha bisogno di guadagnare di più insegue i soldi cede il suo tempo cede la sua vita per guadagnare più soldi e i soldi non gli bastano mai ok quindi la libertà finanziaria di fatto è composto di due elementi il tempo e il denaro ma dei due il più importante è il tempo tu compri il tempo non compri soldi compri il tempo se tu per andare da Firenze a a Siracusa ci vai in macchina magari ti costa meno che andarci in aereo faccio per dire poi magari ci sono dei voli che costano che costano effettivamente meno ma perché in aereo costa meno di solito costa di più fare un viaggio perché ci metti meno tempo e quel tempo tu lo paghi il tempo sarà veramente la valuta di scambio fra pochi anni e il tempo è l'unica cosa l'unica risorsa che hai esauribile cioè tu nasci e hai un tot di tempo per vivere poi quanto sarà non si sa perché c'è chi ne avrà di più c'è chi ne avrà meno ma l'importante è che tu possa passarlo vivendo la vita che vuoi ecco perché io nonostante guadagnassi bene nel momento in cui ho potuto farlo ho lasciato certe mie attività per avere più tempo perché è il tempo quello che ti rende veramente re è il tempo quello che ti rende veramente regina è il tempo che ti fa fare ciò che vuoi ed è chiaro che per passare il tempo come vuoi devi avere anche dei soldi quello è ovvio ma è una seconda variabile non è la prima è la seconda i soldi ok ci siamo siamo tutti d'accordo su questo che vedo ok insieme siete una forza vi completate ok 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 perfetto quindi qual è qual è e questo lo dico per tutti per facebook per quelli presenti per qual è la vera formula della ricchezza com'è che fai a misurare quanto sei ricco la ricchezza R si misura in termini di tempo e la formula per misurarla visto che non c'è neanche su wikipedia perché se vai a leggere la definizione di ricchezza su wikipedia ti passa da ridere perché non dà una definizione precisa di quella che è la ricchezza la calcoli facendo questa semplice divisione prendi i tuoi risparmi la quantità dei tuoi risparmi e la dividi per le spese mensili che ogni che ogni mese sostieni per mantenere il tuo tenore di vita ti faccio un esempio pratico questa segnatela segnatela su una lavagna attacca allo specchio del bagno la mattina e la mattina quando ti guardi allo specchio il tuo bel faccione dici bene quanto sono ricco oggi ok prendi i risparmi ad esempio se hai 10.000 euro di risparmi e per mantenere il tuo tenore di vita spendi 1.000 euro al mese la tua ricchezza è data da 10.000 euro diviso 1.000 cioè 10 mesi la ricchezza si misura in termini di tempo che tu nel quale tu puoi vivere senza lavorare se il tuo tenore se il mio tenore di vita costa 5.000 euro al mese io ho 500.000 euro di risparmi io in questo momento ho 100 mesi di ricchezza cioè se smettessi di lavorare oggi non producessi più smettessi di stare dietro i miei investimenti smettessi di fare tutto quello che faccio avrei 500 magari avrei 500 mesi di vita che non sono pochi 500 mesi di vita però potrei smettere di fare tutto e campare per 500 mesi mantenendo il mio tenore di vita questa è la ricchezza la ricchezza è il tempo che puoi trascorrere senza lavorare mantenendoti con i soldi che hai bene è un bel discorso ma come faccio ad avere più soldi? se mi dici che devo lavorare meno come faccio ad avere più soldi? bene ecco la soluzione per avere più soldi da oggi in poi e questo diceva anche 10 anni fa e non mi stancherò ma di dirlo perché è veramente l'unica soluzione possibile ma veramente è l'unica soluzione possibile io cioè batterei la testa contro il monitor per riuscire a convincere ognuno di voi che questa è la verità però la verità in tasca non ce l'ha nessuno quindi il fatto che sia funzionato per me il fatto che stia funzionando per altri non è detto che funzioni per tutti per l'amor di Dio per una soluzione è questa che tu sia dipendente di lavoratore autonomo a imprenditore che quindi scambia proprio tempo per denaro l'unica soluzione è che tu arrivi ad essere un investitore in autonomia cioè tu faccia in modo che i soldi che tu guadagni una parte tu riesca a risparmiarli e riescano a produrre altri soldi al posto tuo senza affidare a promotori finanziari che tanto guadagnano solo loro senza affidarli alle banche senza affidarli a nessuno i soldi devono restare in tasca tua devono essere sempre disponibili e tu devi fare in modo che di gestirli attraverso il protocollo adeguato e possano lavorare appunto al posto tuo quindi passare dai quadranti si dice dipendente lavoratore autonomo imprenditori ma non passare oltre a fare dipendente lavoratore autonomo un imprenditore Dio mi lungi dal dire a ognuno di voi lascia il lavoro perché non è così che funziona diventare abili investitori e qui si arriva a un punto fondamentale l'Italia mi piace parlare del paese in cui abito è la prima potenza industriale in Europa dopo la Germania fa parte del G7 dei paesi quindi più potenti del mondo ed è il 125esimo paese su 137 a livello di sistema finanziario a livello di conoscenza finanziaria perché questo perché ci hanno sempre detto lavora fatti una carriera guadagna tanti soldi ma quando li devi gestire affidala agli altri e quegli altri cosa hanno fatto? niente perché quello che può succederti oggi facendo un qualsiasi piano di gestione un qualsiasi piano di accumulo per chissà cosa sono è quello di portare a casa un 1,5 un 2% lordo l'anno e quindi praticamente non risolvere niente niente bisogna cominciare a pensare di gestire e di imparare qualcosa a livello educazione finanziaria l'educazione finanziaria non si può più prescindere di fatto sarà la materia fondamentale su quale si baserà i prossimi anni perché nel momento in cui milioni di italiani lo prenderanno in tasca con tutto quello che succederà da oggi in poi li costringerà ma per forza saranno costretti ad interessarsi ai propri soldi quando li avranno persi ormai però saranno costretti ad interessarsi del proprio futuro finanziario e dovranno cominciare a prendere l'educazione finanziaria infatti il nostro obiettivo è proprio quello di portare l'educazione finanziaria in Italia e salvare più persone possibili non sto scherzando è proprio questo il nostro obiettivo quindi visto che siamo il 125esimo paese su 137 a livello educazione finanziaria signori datevi una smossa non c'è più tempo dovete imparare a gestire i soldi per conto vostro sì ma è difficile e ho capito è difficile non è così difficile perché abbiamo un protocollo l'abbiamo anche reso semplice chiaro e facilmente replicabile sentite come parlo non è che oggi vi ho parlato di massa monetaria e il rapporto al cambio euro-dollaro vi ho parlato in termini semplici perché se fino ad ora vi hanno tenuto così lontani dalla comprensione finanziaria e dalla comprensione dell'economia sappiate che non serve una laurea ad Harvard per arrivare a capire certe cose ci vuole volontà la volontà è scritta con la V maiuscola e poi è scritta volontà insieme si legge volontà ci vuole quello ci vuole il fatto di doversi dedicare un'ora al mese un'ora alla settimana un'ora al giorno quello che volete per imparare educazione finanziaria perché il quadrante investitore e riuscire a gestire i propri risparmi e l'autonomia senza affidarla a nessuno è l'unica soluzione che slega il denaro dal tempo il denaro lavora a posto vostro e non dovete più essere voi non devi più essere tu uomo donna che sei dall'altra parte a lavorare per ottenere denaro è chiaro? certo parte bisogna portarla anche nelle scuole ma ci arriviamo siamo arrivati all'università partiamo dal lato per poi arrivare alle scuole elementari lo spero veramente perché ce n'è bisogno tutto chiaro fino adesso? rispondete? no mi fa piacere anche ragazzi del 95 del 98 mi dicano è chiaro ok 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 e allora andiamo avanti se è chiaro quindi Daniele non ho ben capito una cosa chiedila ma Mauro io non mi sento proprio vecchio ti dico la verità il discorso di Draghi il discorso di Draghi è vero l'ho detto un po' veloce però se vuoi mandaci una mail a info che ti spiego anche il discorso di Draghi perché è un punto fondamentale Draghi in questo momento è il presidente della banca città europea e a mio avviso mi avviso sta veramente aiutando l'Italia in questo momento il problema è quando andrà via e magari invece il Draghi arriva in un tedesco o un francese ok ad ottobre 2019 esatto allora io e Gabriele siamo due investitori di fatto cioè noi gestiamo i nostri risparmi in autonomia da dieci anni per questo abbiamo sbagliato abbiamo fatto buone cose però in dieci anni siamo veramente riusciti a raggiungere un ottimo risultato a questo punto io saluto però gli amici di Facebook e chiudo la porta perché ho il barboncino che abbaglia e sente i cani là fuori abbagliare saluto gli amici di Facebook parliamo delle strategie e vi ricordo che potete richiedere la registrazione completa del corso online scrivendo una mail a info chiocciola prendo il controllo punto com appena il support team mi dà l'ok che la diretta Facebook è chiusa andiamo avanti con quelle che sono le due strategie che io e Gabriele abbiamo utilizzato per salvarci da questo punto di vista ok vai chiusa perfetto ok allora io e Gabriele abbiamo strutturato il protocollo che si chiama prendo controllo che si basa su due strategie attenzione ora una strategia di lungo periodo che praticamente per la cura di questa strategia di lungo periodo quindi che genera cash risparmi capitale nel lungo periodo questa richiede un'ora al mese ok mentre per la strategia di breve periodo la strategia di breve periodo richiede un'ora alla settimana cioè un'ora al mese e un'ora alla settimana non è che ho chiesto quattro ore al giorno ho chiesto per la strategia di lungo periodo che serve a costruire un capitale futuro un'ora al mese e per la strategia di breve che serve a costruire una rendita estera nell'immediato un'ora alla settimana ci vuole un po' di più se vuoi so di subito ci vuole praticamente un'ora di più un pochino di più nella strategia di lungo periodo lo strumento utilizzato sono gli ETF ok mentre nella strategia di breve periodo abbiamo utilizzato le azioni americane chi è che conosce gli ETF qualcuno mi dirà di sì qualcuno mi dirà di no chi è che non conosce gli ETF che non conosce eh no che conosce che non conosce no 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 non conosco non conosco non conosco perfetto allora guarda me lo spiego in due secondi gli ETF sono fondi a replica passiva cioè sono fondi che replicano l'andamento di un mercato sottostante brava patti non hanno costi è vero hanno bassissimi costi bassissimi costi gli ETF sono strumenti che replicano l'andamento di un mercato di riferimento allora per essere diciamo che per essere abilmente diversificati sui mercati tu dovresti investire in cinque asset perché i mercati sono formati da cinque asset principali azionario obbligazionario a lungo obbligazionario a breve oro e immobiliare quando fai un piano di gestione in banca bene che ti vada ti fanno investire nell'azionario o nell'obbligazionario siamo lì e se proprio la banca ti vuol bene ti dice guarda compra l'azione della banca e basta magari guarda unicredit e dice compra l'azione unicredit come ha fatto il buon mio amico Fausto che si è trovato da 10.000 euro di capitale a 3.000 euro di capitale perché magari qualcuno là sopra gli dice guarda devi vendere le azioni della banca vai spingi 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 la banca non fa il tuo interesse la banca fa il suo di interesse sia chiara questa cosa qui è come quando qualcuno ci dice perché fate corsi ecco allora sappi che sono molto più etici i miei corsi se vuoi che tutto quello che ti vede la banca che sicuramente insomma lui che ci guadagna è lei detto questo insomma permettetemi questa esternazione banale e spontanea però i cinque mercati cioè i cinque mercati cinque asset in cui vanno a finire i soldi sono cinque azionari obbligazioni a lungo obbligazioni a breve oro e immobiliare io e Gabriele investiamo su tutte e cinque Stefano e come fai a investire su tutte e cinque compro un etf che mi replica l'andamento dell'azionario uno per l'obbligazione a lungo uno per l'obbligazione a breve uno sull'oro uno sull'immobiliare noi abbiamo costruito il nostro capitale comprando cinque etf che non è che costano andate su justetf.com un bel sito justetf.com dove potete trovare tantissimi etf e Gabriele i nostri cinque li abbiamo selezionati lì e fra l'altro al corso di Prato del 27 il 28 ottobre li facciamo vedere tutti e cinque insomma per cui non ci si sbaglia noi ne abbiamo scelti cinque ne abbiamo comprati cinque costano quali cinquante euro qualcuno cento euro non è che ci vuole dieci mila euro mille euro centomila euro per fare un piano di gestione lo puoi fare anche con mille euro mille cinque e duemila lo puoi fare anche con poco iniziando veramente con da zero però la bellezza degli etf che sono fondi che replicano l'andamento dei mercati che innanzitutto non possono fallire perché i soldi sono segregati e già questa è una notizia positiva hanno un'ampia diversificazione perché quando vai a comprare un etf azionario non è che è un etf che replica l'andamento di un'azione di unicredit piuttosto che di STM piuttosto che di CNH cioè replica l'andamento di tantissime azioni replica l'andamento di tantissime obbligazioni replica l'andamento delle società che investono in immobili cioè sono ampiamente diversificati uno degli etf che io e Gabriele abbiamo in portafoglio replica l'andamento dei 1600 titoli più capitalizzate a livello mondo 1600 aziende più capitalizzate a livello mondo cioè se va giù quell'etf facciamoci tutti i segni alla roce perché vuol dire che l'economia è finita ma l'economia non finirà perché andrà avanti ancora per tantissimi anni ok? e soprattutto hanno costi bassissimi se un etf normale scusate se un fondo di gestione normale un fondo che aprite con la banca con un promotore finanziario ha un costo di entrata del 2,5% e un costo di gestione annua del 2,5% perché chi vi gestisce soldi non lo fa gratis può guadagnare un etf costa lo 0,3% e ti assicuro che per scegliere etf giusti non serve essere dipendenti alla NASA serve mettere un attimo lì due giorni insieme vedere quali sono acquisire quelle competenze che servono e farlo per conto proprio ma è veramente semplice qualcuno continua a dirmi eh ma l'economia tu ti intendi di economia io non mi intendo proprio di un bel niente cioè sono uno che ha preso le poche informazioni che servivano e ha fatto la differenza poi ti faccio vedere i risultati sì perlomeno mentre il breve periodo su cui ora Gabriele puntiamo tantissimo usiamo le azioni americane quando le persone sentono parlare di azioni visto che l'Italia ha il 125esimo posto della classifica sul 137 quindi zona di processione piena la gente si impaurisce perché dice ha azioni uguale rischio non è che azioni uguale rischio azioni uguale rischio se non sai come fare perché un titolo azionario a parte che è una quota di proprietà di un'azienda quindi quando tu compri sei proprietario e sei comproprietario di quell'azienda lì ma poi ha una profittabilità ha una grande caratteristica il titolo azionario te ne metto tutte e due può avere un'alta profittabilità e un basso contenimento del rischio perché con le moderne tecnologie con l'accesso ai mercati con un pc e una linea internet tu puoi comprare un'azione di un'azienda stabilire qual è il rischio massimo che tu vuoi correre e far correre il profitto perché una delle caratteristiche del protocollo lo prendo controllo e adesso lo vediamo facciamo un focus proprio sulla strategia di breve periodo in quanto lo scorso corso online lo fece sulla strategia di lungo oggi lo facciamo sulla strategia di breve è proprio questo cioè quello di puntare sulle aziende che stanno bene sulle aziende che sono in trend mettere e decidere qual è il proprio rischio proprio quota da rischiare fare in modo di cogliere il massimo profitto non è che se io sto guadagnando 200 euro su un'azione chiudo perché vedo 200 euro no io lo lascio correre lo lascio correre finché può correre ed è quello che fa la differenza focus strategia di breve periodo ok allora noi scegliamo solo i titoli migliori non conta abbiamo un software che ci individua quali sono i titoli migliori noi tutte le sede pigiamo un bottone su una nostra piattaforma e ci dice quali sono i titoli migliori da scegliere non conta il titolo il nome del titolo non è che compiamo Juventus solo perché Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo abbiamo fatto a Gubbidi in tal senso ah arriva Cristiano Ronaldo il titolo della Juve Sale il sale peccato che insomma inizialmente era a livelli che aveva già toccato anni prima poi ora spondato ok è un altro discorso però non è che compriamo un titolo per simpatia noi andiamo a scegliere i titoli che il software è nostro lo scanner è nostro automatico ci va a individuare spesso neanche le conosciamo quelle aziende sono titoli non abbiamo mai sentito nominare sappiamo nemmeno come si chiamano ok quindi per dire quanta competenza ci vuole a quale prezzo compro Stefano a quale prezzo devo comprare il titolo è il sistema il sistema il protocollo ti dice dove comprare e dove vendere punto non c'è da sapere niente di particolare quanti titoli comprare abbiamo un software che si chiama stock calculator questo neanche Gabriele te l'abbiamo mai detto giusto Gabri sono sicilie dall'altra parte e ti dice il software bene se io compro a questo prezzo e dico che non voglio perdere più di questo quanti titoli devo comprare col capitale che ho a disposizione e ti dice quanti titoli di comprare e se è un titolo americano ti fa anche il calcolo perché il titolo americano è in dollari tu compri in euro e ti dice guarda in base al cambio attuale i titoli da comprare sono questi cioè è una cosa di una di un elementare pazzesco l'ha capito anche mia figlia di 12 anni è di un elementare pazzesco cosa faccio quando ho comprato il sistema ti dice come gestire l'operazione è come funziona una strategia di breve periodo punto non c'è da sapere grandi cose funziona esattamente così ma funziona così perché Gabriele abbiamo fatto in modo facendosi il culo per 10 anni di farla funzionare così cioè il risultato che noi abbiamo raggiunto i 10 anni e che poi deriva proprio dalla semplicità della cosa perché la semplicità e lo dirò sempre la migliore delle sofisticazioni viene da un'esperienza un bagaglio culturale è chiaro che viene da un bagaglio culturale da una conoscenza da tutta un'esperienza accumulata negli anni che poi ci ha portato a un certo tipo di risultato tu non dovrai fare quel percorso lì sarà molto più semplice per te l'unica cosa che devi fare tu oggi è decidere cioè decidere di salvarti non è il decidere di venire a un corso prendo controllo tu devi decidere veramente in testa la vuoi prendere se vuoi prendere la strada che ti porterai in balia delle onde e di qualcuno che deciderà per te o se vuoi essere tu il padrone della tua vita questa è l'unica cosa certa quali sono i vantaggi della strategia i vantaggi della strategia e soprattutto i vantaggi dell'investitore sono questi innanzitutto il tempo è l'unica attività dove scolleghi tempo e denaro non sei più te a dover lavorare per il denaro ma è il denaro che lavora al posto tuo e lo so che magari dici ma mi sembra troppo semplice mi sento quasi in colpa perché è veramente così a inizio anch'io mi sentivo in colpa sono cresciuto con l'idea ma guarda è pazzesca sta cosa sono cresciuto con l'idea che per fare i soldi bisogna farsi in mazzo e a un certo punto mi sono trovato i soldi che lavoravano al posto mio e rendevano più di quello che rendevo io con il mio lavoro perché questo è quello che è successo adesso lo faccio vedere rendimenti i guadagni sono potenzialmente limitati e la flessibilità è una professione è una professione per me la professione i lavori sono altre cose mio babbo lavorava che mi ricordo mio padre faceva il pavimentatore e quando praticamente finiva la scuola e avevo 15-16 anni mi diceva vieni Stefano vieni a vedere qua come si mettono le mattonelle e io un'estate due estati poi ho detto qui si fatica davvero a me la fatica mi ha sempre fatto paura da un certo punto di vista è un punto anche di accordo insomma con Gabriele in questo senso ma sono quelle cose che veramente ti fanno vedere il futuro ti fanno pensare io un certo momento ho detto ma perché lui intelligente mi diceva vieni a vedere quanto si fatica per guadagnare la pagnotta a fine mese vuoi anche tu fare questo lavoro qui vuoi anche tu la tua vita che la tua vita vada in questo modo e lì mi ha dato l'opportunità di decidere e ho deciso di fare diversamente ok e oggi posso fare diversamente perché ho deciso di fare diversamente ma le decisioni non è che le prendi a 15 anni a 10 anni a 20 anni a 30 anni a 40 anni le prendi nel momento in cui vuoi prenderle puoi avere anche 50 anni puoi anche avere 60 non conta l'età conta quando decidi di svoltare perché nel momento in cui decidi di svoltare è che ti cambiano completamente i risultati quale strumento utilizzo per quanto riguarda la strategia di breve termine per l'azionario americano utilizzo uno strumento che si chiama grafico ah il grafico no per l'amor di dio il grafico è difficile no stai buono mamma mia il grafico il grafico è uno strumento visivo e si sa che il visivo l'aspetto visivo viene percepito meglio dalla neurologia perché l'alternativa al grafico è andate a vedere ogni azienda andate a vedere i fondamentali di ogni azienda quanto fattura che finanziamenti ha il ROI insomma i mezzi gli ammortamenti i mezzi propri i mezzi finanziati eccetera l'alternativa è quella ah no non si utilizza il grafico perché il grafico è semplice un grafico o sale o scende o va in laterale cioè non ci sono direzioni non ci interessa quando il grafico sale o quando il grafico scende facciamo un esempio di quando il grafico sale questo grafico è sale penso lo vedrebbe anche il mio barboncino che è di là se gli dico Paco secondo te cosa fa questo grafico e lui mi fa bau che vuol dire sale bau bau che vuol discende insomma mi ha detto ma glielo una volta sola quindi guarda il grafico sta salendo ok questo è un grafico daily candele blu candele blu significa che è stata daily vuol dire che ogni barretta non è una barretta proteica ogni barra che vedi ogni candela che vedi rappresenta l'andamento di un giorno di borsa non entriamo adesso nello specifico perché tanto te lo spieghiamo al corso d'ottobre praticamente quando è blu vuol dire che quella giornata è stata positiva o quando è verde generalmente quando è rossa vuol dire che è stata negativa allora noi cosa facciamo il sistema ti dice guarda Stefano questo è il grafico di un'azienda che sta salendo è interessante nel momento in cui c'è un ritracciamento come questo vedi vedi che qui i prezzi a un certo punto si fermano vanno in laterale scendano il mercato respinge questo prezzo e poi ricominciano a salire ti dice tu compra e infatti questo è l'esempio di un di un titolo che ha fatto il più 190% che io e Gabriele e qualche nostro studente ha comprato qua e adesso siamo ancora dentro perché sale ok quindi siamo sempre dentro e solo su questo titolo stiamo facendo più 190% sul capitale investito su questo titolo ma questo titolo il segnale poteva averlo anche in questa fase qua poteva averlo anche in questa fase qua poteva averlo anche in questa fase qua andava bene comprarlo anche in questo caso ma ci sono dei parametri che ora sono le 10 e 20 già le 10 e 20 accidenti che non ti posso spiegare perché ci vorrebbero altre tre ore e in base a questi parametri che ripeto daremo al corso prendo il controllo del 27 28 ottobre ci fanno decidere se il titolo è da acquistare o meno ci dicono quanto azione comprare ci dicono dove mettere l'eventuale stop loss perché ogni tanto si perde anche noi dove mettere praticamente il profit e come gestire l'operazione guardando un grafico perché il grafico è la migliore rappresentazione dell'andamento del prezzo di un'azienda è la rappresentazione più semplice più immediata e più sintetica dell'andamento della vita di un'azienda se un grafico sale vuol dire che l'azienda va bene se un grafico scende vuol dire che l'azienda va male vatti a vedere il grafico di Monte dei Paschi e mi dici se il Monte dei Paschi prima che fallisse si capiva che era fallito oppure no ok il grafico addirittura anticipa quelle che sono le notizie anticipa quelle che sono poi i prezzi ok guardate bellino questa slide adesso me lo posso permettere che non è il che non è il giacchetto della Montclair adesso vi posso permettere di comprare il giacchetto della Montclair però questa slide me la voglio veramente godere perché è una sorta di rivalza in questo senso è una cosa carina che voglio condividere con te che sei qui siamo in cento insomma qui a condividere questa cosa e ti dico negli anni 80 c'erano i famosi paninari no quelli come ti ho detto prima si mettevano vestiti filmati le cose io non potevo avevo una famiglia e non si poteva permettere di farmi andare vestiti tutto filmato ed è stata una fortuna purtroppo l'ho capito dopo vent'anni però è stata una fortuna questa cosa qua e poco tempo fa due mesi fa mi capita di comprare un'azione di mettere in portafoglio un'azione ma non ci ho riflettuto lì per lì per me è stata una cosa naturale è stata una cosa spontanea e questa azione sa qual era era proprio Moncler e ho detto ma porca miseria ho detto ho comprato 1200 azioni Moncler vedi a questo livello questa è la screen da cellulare del mio del mio smartphone di uno dei conti che ho ho comprato 1200 azioni Moncler che è un prezzo di 26 e adesso valgono 39 ne comprai 2004 in realtà non 1200 poi la metà l'ho venduta a un certo livello perché il protocollo ti dice a un certo punto vendi la metà delle azioni e lascia correre l'altra metà ecco 1200 sono azioni che è un portafoglio ho detto porca miseria ho detto 30 anni fa 30 anni fa sì non potevo permettere Moncler oggi sono azionista di piccolo calico della Moncler però sai cosa vuol dire aver comprato avere in portafoglio 1200 azioni a questo prezzo e averle in carico a questo prezzo qua vuol dire star portando a casa 16.500 euro e non è tanto quelle 16.500 euro che mi sto portando a casa è il fatto di dire che la vita alla fine se fai le scelte giuste se fai le scelte azzeccate ti rende sempre tutto indietro a volte sembra ingiusta a volte sembra incomprensibile a volte non capisci perché sia toccato proprio a te vivere certe situazioni ma se riesci a fare quel passaggio che ti porta oltre quell'ostacolo veramente poi ti rende tutto indietro a me mi ha reso forse anche di più di quello che mi aspettavo Gabriele Cortigiani ha detto nella diretta prima di questo corso ha detto abbiamo raggiunto cifre che pensavamo inimmaginabili ed è vero perché io da piccino soffrivo perché non mi potevo comprare un jeans levis e oggi dico ma porca mi sembra ma guarda ora ora che non me ne frega più no ma veramente ora che non me ne frega più mi trovo con un azionista Moncler con 16.500 euro ti guadagna è pazzesca sta cosa e non è per i soldi è la libertà che ti dà questo tipo di risultato ho fatto alcuna proiezione questa è veramente canza bellina canza si dice in Toscana si dice canzo in a nord in nord Italia si dice canzo no ma canzo non si dice ok ogni tanto è una cosa veramente carina io ho fatto una proiezione di quello che sarebbero oggi il mio capitale ok si dice figo è vero figo 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 che oltre ad essere un ex giocatore dice anche figo è vero ok allora oltre ho fatto una proiezione di quello che sarebbe stato il mio capitale oggi se avessi continuato a fare il lavoro che facevo spendendo quello che spendevo e mettendo da parte quello che mettevo da parte io in dieci anni partendo da zero avessi messo da parte non è che guadagnavo poco io però avessi messo da parte circa 100.000 euro se negli ultimi dieci anni non avessi fatto altro che lavorare ed è questo il punto grazie al fatto di aver messo soldi da parte di averli investiti averli investiti però con una strategia di breve termine che ha funzionato che sta funzionando e che sta portando a tempo i risultati reinvestendo gli utili quindi reinvestendo tutti i guadagni ecco qua il risultato ed è questo la cosa pazzesca è questa la cosa pazzesca perché l'investimento se lo fai bene ti ti fa praticamente godere di quello che è l'effetto dell'interesse composto che all'inizio 2008 2012 non lo vedi tutta questa differenza ma dopo ti esplode e questo vuol dire avere una visione questo vuol dire avere un obiettivo questo vuol dire crederci questo vuol dire crederci profondamente perché se no non raggiungi certi risultati vuol dire crederci e quando ci credi tu come te lo sto dicendo adesso alla fine riesci cavolo a dire anche all'altra persona faccelo riesci a dire anche a altre persone credici anche tu e qualcuno prima o poi ti segue e qualcuno prima o poi ti segue e raggiunge anche dei risultati ovviamente ora questo è una di fatto quello che mi piace è questo cioè ma io ci pensavo oggi se io non avessi investito i miei soldi oggi avrei questo avrei questo non è che avrei poco 100.000 euro a parte ma questo vuol dire la differenza fra i soldi che lavorano a posto tuo e te che lavori per i soldi perché tu non sei bravo quanto sono bravi i soldi i soldi da sé fanno meglio parlano la stessa lingua si riproducono da loro sanno come fare se tu sai cosa fare e tu da te non ce la puoi fare così o perlomeno qualcuno ce la fa ma ha delle responsabilità dei pesi delle pressioni cioè io riconosco i manager che guadagnano un milione d'euro l'anno non quelli da tipo Marchione però conosco i manager che hanno un milione d'euro l'anno e la loro grande capacità è quella di gestire la pressione quella di fregarsi delle cose di far passare certe informazioni di gestire altre ma hanno una pressione hanno un carico che è pazzesco qui non importa avere un carico pazzesco qui devi solo sapere cosa fare e come farlo è semplice a dimostrazione di quello che sto dicendo come se dovessi come se dovessi dimostrare che è tutto vero questo è l'estratto conto l'estratto conto di uno dei conti importanti mie e di Gabriele eccolo qua Teratti Broker è il nostro broker nome del conto Gabriele Cortigiani Stefano D'Ambrosio rendi conto dal 2 luglio al 29 agosto ok abbiamo diciamo oscurato il capitale presente perché non ci sembra neanche bello però abbiamo fatto ti facciamo vedere quello è stato il guadagno il guadagno dal luglio 2 2 luglio al 29 agosto quando noi eravamo praticamente quasi in ferie quando c'ero io quando c'era Gabriele questo è un risultato reale non è un risultato proiettato o cosa questo è un risultato reale qui ci siamo fatti vedere questa è una foto mia di Gabriele in un ristorante di Forte dei Manni e quello che ti deve far riflettere è che io non ti faccio vedere la foto in Ferrari la foto sullo yacht del Ferrari affittato la foto sullo yacht perché non me ne frega niente di farti vedere la foto sul Ferrari innanzitutto perché non ce l'ho in Ferrari e nemmeno le yacht però io in due mesi Gabriele 22.500 euro su questo punto e qui c'era un bel ristorante sinceramente e non è che stavamo a controllare il nostro conto tutti i giorni questo va da sé questo va da sé ovviamente hai l'esperienza e la capacità di selezionare i titoli migliori e dopo anni anni e anni che ci sta dietro c'è anche questo tipo di risultato ma il risultato è che fa riflettere ok ci sono anche dei nostri studenti che di cui non abbiamo messo il nome e però ogni tanto ci mandano gli screenshot ad esempio caso 1 questo ci ha mandato uno screenshot 632 euro con operazione con due ore di tempo dedicato magari è vero noi ci mettiamo mezz'ora per fare questo tipo di scelta questo ci ha messo due ore perché all'inizio ma ha fatto 632 euro 632 euro ma non sono i 632 euro fatti con un'operazione sono i 632 euro fatti con un'operazione scelta in due ore che i 632 euro non so nemmeno se è il guadagno di un lavoro part time e qui non è che lui si è messo a produrre per generare i 632 euro ok ma è stato due ore a vedersi i titoli dopo essere stata al corso prendo un controllo e ha detto bene in due ore sono riuscito si è ripagato praticamente il corso perché il corso è in promozione a 4 e 47 va bene ma questo è un altro discorso ok altro screenshot che ci è stato inviato altra persona 730 euro mi ha detto ci ho messo 43 minuti non ci ha detto ci ho messo 43 minuti mi ha detto ci ho messo 43 minuti per scegliere questo titolo 730 euro in 43 minuti altro caso studio un altro ci ha mandato lo screenshot di alcune operazioni questo ha fatto 945 euro su alcuni titoli che ha scelto in due ore e mezzo ok ma ripeto non è il valore quello che voglio trasmetterti oggi è che non è il valore del denaro non è tanto il valore del denaro è il valore del tempo ma lo sai cosa vuol dire lavorare per ore del giorno e poi fare altro cioè fare altro non vuol dire che devi lasciare il lavoro vuol dire fare altro cioè questi sono ragazzi che fra poco ma tranquillamente fra qualche mese potranno veramente valutare di lasciare la propria attività per fare questo e basta e il prossimo potresti essere proprio tu ok potresti essere te chi sarà il prossimo il prossimo sarà quello che ci manda il prossimo screenshot questi sono tre persone che ce l'hanno mandato lo screenshot poi mica tutti sono come si dice quando si parla di soldi non è che tutti dicono vai quando si parla di soldi non è che si esternalizza molto anzi cerca sempre di stare nel proprio noi non abbiamo problemi a far vedere queste cose proprio perché le viviamo le viviamo con naturalezza le vogliamo condividere con te che sei dall'altra parte però ci sono persone ovviamente anche se guadagnano qualcosa non è che ti dicono oh Stefano ho guadagnato perché è antipatico certe volte loro per dire ma noi siamo contenti di questa cosa siamo veramente contenti perché questi sono tutti ragazzi e persone qualcuno di uno di 55 anni diciamo nome uno ne ha 24 l'altro uguale che comunque questi qualsiasi cosa succeda domani 2019 2020 cioè hanno imparato a fare un qualcosa diverso potranno sempre contare su una competenza diversa perché l'unica cosa che ti può salvare non è il business online dove ti devi fare un mazzotanto non è il prossimo lavoro dove ti dovrai fare un mazzotanto acquisire competenze diverse per fare in modo che il tuo tempo abbia valore e per dare valore al tuo tempo o fai il chirurgo plastico va bene se hai 19 anni oppure cominci veramente a far girare i soldi al posto tuo ci siamo su questo? ok? allora voglio farti un regalo per chi rimane collegato fino alla fine del webinar faccio un regalo e ricordo nel frattempo tutto chiaro fino ad adesso? mi rispondete? tanto bevo perché io non so quando parlo ma io sono così a capuzzi cioè mi inferboro in maniera pazzesca chiaro al corso fanno molte domande massimo 5 domande a testa no scherzo Mauro ci mancherebbe altre ok? ok corso supera addirittura allora prima del regalo vi dico allora prossimo corso prendo il controllo in cui consegniamo le strategie è il 27 28 ottobre a Prato vi dico un attimo quelle che sono le caratteristiche del corso perché poi nessuno mi dica ma io non ho capito ok? allora si deve andare tra poco Federico ho 10 minuti ok? se resisti 27 28 ottobre a Prato due giorni in aula in cui consegniamo il protocollo prendo il controllo saranno due strategie di lungo periodo e due strategie di breve periodo quindi consegniamo le strategie pratiche che Gabriele utilizziamo punto cioè non è un corso filosofico sulla psicologia del denaro e su come diventare ricchi in tre mesi cioè noi consegniamo le strategie che io e Gabriele utilizziamo punto ok? su quelle cioè due di lungo che servono a costruire un capitale futuro che sostituirà la tua pensione che potrà essere utilizzato da te dai figli dalle persone a cui vi va bene che ti darà una tranquillità e due di breve per quanto riguarda la rendita extra in pratica quella che abbiamo visto nel corso di oggi questi due giorni in aula che hanno un valore di 1097 euro sono in promozione a 447 euro IVA compresa segna fino al 23 settembre perché poi aumenterà fino a 1097 euro costo vero del corso ok? diamo l'opportunità di venire in aula con un'altra persona perché a nostro avviso 4 orecchie funzionano meglio dei due e 4 occhi vengono meglio dei due ok? quindi diamo l'opportunità anche di venire in aula con un'altra persona a costo zero offriamo anche la notte in hotel perché siccome Gabriele continuiamo a fare tanti corsi di formazione ne abbiamo fatto anche tanti perché la formazione è l'unica cosa che ci è tornata sempre indietro 100 volte per ed è la verità più abbiamo studiato e più abbiamo guadagnato però sappiamo anche quanto costa trasferirsi venire a prato i costi della benzina i costi della macchina i pranzi le cene eccetera eccetera per cui abbiamo deciso sembra una cosa carina di offrire la notte in hotel in 4 stelle quindi se tu vieni il 27 sabato il 28 domenica fra il sabato e la domenica la notte la paghiamo noi in albergo ok? pensiamo al tuo pernottamento e a quello della persona che è con te in più chiudiamo quattro bonus di preparazione al corso sono quattro bonus sono dei video adesso te li faccio vedere e degli audio più il libro mio destinazione eccellenza che ti vengono consegnati proprio per prepararti alle due giornate in modo che tu arrivi in aula già preparato già preparato in modo da assorbire al meglio tutte le informazioni che mi vengono date perché sono due giorni full intensive sono veramente tosti cioè stiamo in aula dalle 9 la mattina il primo giorno un pochino più tardi 9.30 fino alle 7 la sera e poi la domenica finiamo un pochino prima per permettere a tutti di rientrare in maniera agevole tutto questo ha un valore di più di 3.000 euro ripeto è in promozione a 447 euro fino al 23 di settembre ma attenzione l'hotel è gratis è riservato solo ai primi 25 iscritti dirai Stefano come solo 25 iscritti sì perché non facciamo non non no negazione facciamo aula da 1.000 persone il nostro corso non è uno show è un corso riservato a 50-60 persone perché visto che è un corso pratico dobbiamo prendervi uno a uno stabilire praticamente quello che è il vostro obiettivo finanziario se non lo sai lo stabilirai in quei due giorni e darti le strategie per riuscire a raggiungere il minor tempo possibile non in 10 anni lo abbiamo fatto noi ma in in minor tempo ok siamo per questo proprio per questo visto che l'aula è riservata a 60 persone massimo i primi 25 iscritti ricevono l'hotel gratis c'è ancora posto per i primi 25 iscritti mi raccomando iscriviti subito così perlomeno ti assicuri anche il la notte gratis in albergo inoltre il prezzo 4 e 47 è valido fino al 23 settembre cosa fare per sapere di più del corso poi ti do il regalo praticamente vai sul link prendocontrollo.com slash corso e lo scriverà il support team ma lo scrivo anch'io in modo da farlo avere a tutti vai su questo link ok e praticamente ci sono tutte le specifiche sono tutte le specifiche sul sito trovi le facce i miei di Gabriele che siamo i relatori principali del corso trovi praticamente tutta la descrizione trovi anche un trailer del corso che ti spiega un po' cos'è a parte le foto insomma che sono di rito trovi ovviamente quelli che sono i bonus che ti ho appena elencato quindi due biglietti al prezzo di uno in pratica se puoi venire con una persona che partecipa a maniera gratuita mantenendo i 447 euro hai la notte gratis se ti muovi a iscriverti ok il prezzo è in promozione poi 447 euro fino al 23 settembre poi aumenta fino a 1097 euro ci siamo su questo è chiaro perché è una cosa che ci viene chiesta spesso fino al 23 settembre in promozione quindi ancora 23 giorni a questo prezzo di promozione ma l'albergo il bonus albergo è riservato solo ai primi iscritti se non sono 25 arriviamo a 30 sicuramente arriveremo a 30 anche con l'albergo per l'amor di dio però sappi che se ti iscrivi molto probabilmente fra questo fine settimana e la prossima l'albergo c'è quindi vai in tranquillità te lo riserviamo trovi anche tutto il programma del corso cliccando su questo tasto leggi il programma completo trovi tutto il programma completo ok e trovi soprattutto le testimonianze di chi ha già partecipato oggi visto che siamo già un po' tardi non te le faccio sentire una generalmente le facciamo sentire però se vai sul sito prendo il controllo.com trattino corso slash corso trovi le testimonianze le persone che hanno liberamente deciso di lasciare una propria testimonianza del corso quindi oltre alle mie parole posso sentire anche le parole le persone che hanno già partecipato ok abbiamo iniziato praticamente a fare questo corso maggio 2017 in pratica un anno fa e avevamo tre recensioni oggi abbiamo una veramente tante cosa importante cosa fa inserisci il tuo nome la tua email sì voglio partecipare e trovi anche la gananzia 100% soddisfatto rimborsato perché se tu vieni al corso e poi il sabato sera dici guarda Stefano guarda Gabriele sicuramente il corso fa schifo oppure non è quello che che mi aspettavo noi ti rimborsiamo il biglietto in maniera totale quindi le 447 euro te le rendiamo indietro e dormi anche in albergo e ti restano praticamente i bonus non è mai successo però potrebbe succedere perché nella vita non si sa mai quindi hai anche questa ulteriore garanzia c'è anche sul sito scorrendo sulla landing tutti i bonus dei quali ti menzionavo prima i 4 fantastici regali del valore di 599 euro che sono 3 video coaching 2 mp3 di cui una è l'audiolettura del libro prendo il controllo dell'ebook prendo il controllo e la terza edizione del libro destinazione eccellenza quindi se volevi comprare destinazione eccellenza invece di andare su amazon e comprarlo te lo trovi praticamente al corso e lo ricevi anche nel pratico ebook in formato digitale quindi sappi che c'è questa opportunità fino al 23 settembre 2018 447 euro ma attenzione alle all'albergo perché ovviamente lo offriamo non a tutti ma alle prime persone allora per quanto riguarda poi nel momento in cui tu inserisci il nome e la mail clicchi si voglio partecipare verrà indirizzata questa pagina che è la pagina di check in dove ti viene riepilogato tutto quello che ti viene dato e paghi con carta di credito paypal oppure con bonifino bancario come vuoi insomma è un'occasione unica perché un corso di questo livello a questo prezzo non esiste è stato praticamente è stato questo 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 evento è stato menzionato è stato definito come l'evento numero uno in Italia per praticità di contenuti e ci credo perché non è che noi ci siamo improvvisati a fare questo tipo di evento li facciamo sulla nostra pelle li facciamo con un protocollo diamo veramente un protocollo in mano non è un evento di presentazione è un evento in cui diamo veramente le strategiche e se in questo momento senti che la tua situazione finanziaria è stabile ma non la senti proprio tranquilla oppure se senti che la tua educazione finanziaria dovrebbe avere delle informazioni importanti in base alle quali puoi decidere per il tuo futuro e per le persone a cui va bene questo è veramente un grande evento lo dico io sono il cuoco dell'evento però lo dicono anche se vai a sentire tutte le persone che hanno partecipato non c'è gente che parla male di questo evento è troppo è veramente potente ok allora detto questo ho finito la voce passiamo al discorso di prima allora il regalo il regalo per chi è rimasto praticamente tutti ok allora innanzitutto qui faccio una premissa una premissa importante per riuscire a avere i soldi da investire che siano ma veramente si parte anche da zero zero euro cento euro mille euro quelli che sono diecimila euro centomila euro c'è gente anche che è venuta al corso con un milione di euro si parte da un presupposto che è fondamentale vale a dire il risparmio parte da una presa di coscienza di quelle che sono le proprie entrate e le proprie uscite allora prendere coscienza di quelle che sono le proprie entrate e le proprie uscite è fondamentale spesso io chiedo alle persone ma tu quanto guadagni e le persone sanno quanto guadagni e poi gli faccio ma tu quanto spendi eh spendo di più di quello che guadagno quanto di più eh ora non te lo so dire ma dimmi una cosa dov'è che spendi tutti i soldi eh li spendo per la casa per la macchina per le spese di casa per il supermercato sì ma quanto spendi per la casa quanto spendi per la macchina quanto spendi per il supermercato quanto spendi per l'energia elettrica quanto spendi per l'acqua e le persone queste cose non le sanno perché se lo sapessero e prendessero coscienza molto probabilmente andrebbero a rivedere determinate spese per riuscire a magari anche a ottimizzarle da un certo punto di vista perché il miglior ricavo di un'azienda è anche diciamo così sta nella riduzione dei costi o comunque sta nella revisione dei costi così il miglior guadagno di una famiglia sta anche nell'ottimizzazione dei propri costi Gabriele utilizza sempre una parola che è il budget ecco tu dovresti avere un budget per tutto però non ti chiediamo tanto in questo momento però ti chiediamo di prendere coscienza di quelle che sono le tue uscite perché ti assicuro che se prendi coscienza delle tue uscite di denaro sicuramente già solamente facendo questo guadagni di più ecco io e Gabriele abbiamo creato un software che si chiama Money Control attraverso il quale tu puoi inserire tutte le volte che hai una spesa tutte le volte che hai un'uscita la spesa che hai in quel determinato giorno e praticamente il software ti va praticamente sia quella spesa nella categoria d'appartenenza e tu non solo hai un quadro chiaro della situazione che ti permette di capire quanto guadagni e quanto spendi ma soprattutto hai anche un quadro grafico della cosa perché vedi praticamente quelle che sono le spese qual è la parte grafica delle spese dovute alla casa al mutuo alla macchina all'energia al supermercato all'arredamento non lo so ed è veramente ottimale questo software si chiama Money Control e praticamente te lo regaliamo cioè ora il support team ti dà il ma non è finita ti dà praticamente il link per andare a scaricarti Money Control e potrai già utilizzarlo fin da subito e già questo ti serve per prendere coscienza di quelle che sono le tue entrate e le tue uscite perché un grande risultato un grande risultato a livello di investimento nasce innanzitutto dalla consapevolezza di dove sei oggi di cosa stai facendo oggi di come stai facendo e come gestisci oggi il tuo flusso di cassa all'interno della tua microeconomia ok ci siamo su questo sono stato chiaro visto che ci siete ancora tutti ci siamo avendo un bel risparmio qual è la quota parte da investire tutto quasi tutto cioè praticamente noi investiamo rispondo un attimo a una domanda di Giovanni poi dopo continuo praticamente fatto 100 il capitale noi lasciamo sul conto corrente bancario e diciamo anche qual è il conto corrente bancario migliore cioè al corso andiamo a individuare vi diciamo anche qual è la banca migliore secondo alcuni parametri che andiamo a vedere insieme lasciamo sul conto corrente solo le spese che ci servono per mantenere il nostro tenore di vita in tre mesi cioè io sul conto corrente ho quei soldi che servono a mantenere il mio tenore di vita nei prossimi tre mesi Giovanni non ci tengo di più il resto è tutto investito è tutto investito ovviamente però ho la possibilità non come con la banca che investi e non sai nemmeno dove sono i tuoi soldi chiedi oh ma come va l'investimento eh accedi con lo banking però non lo so devo vedere no noi abbiamo un broker attraverso il quale accediamo clic e vediamo esattamente il conto aggiornato e vediamo dove sono i nostri soldi se vogliamo ritirarli clicciamo un bottone e arrivano subito sul conto e questa è la differenza è solo un saper fare le cose nel modo giusto e volerle fare ok detto questo oltre a money control però abbiamo un'altra sorpresa perché e questo è il regalo che vi facciamo money control che è veramente utilissimo c'è qualcuno che ce l'ha già e che ci sta ringraziando per questo per chi si iscriva al corso e questo lo fa come come promo corso dai permettetemi almeno questo stasera per chi si iscriva al corso entro domani sera e c'è un motivo per motivi amministrativi l'amministrazione è l'unica cosa che Gabriele abbiamo delegato perché vogliamo solo occuparci di investimenti e di formazione per chi vuole servirci i soldi li facciamo praticamente incassare a un'unità esterna ok per chi si iscrive domani al corso entro domani sera entro il 31.8 che è domani sera regaliamo anche lo stock calculator che è quel software che serve a capire quanti azioni comprare sulla base del capitale che ho a disposizione sulla base del rischio sulla base dell'azione in scelta ok è praticamente il software che noi utilizziamo per calcolare il numero d'azioni che praticamente investiamo nelle nostre operazioni in pratica funziona ma si è quasi un file di excel tu ci metti praticamente il titolo la tipologia la piazza in cui l'azione è quotata se è un trade long oppure short livello di entrata livello di uscita in base a altre caratteristiche ti dice esattamente quante azioni comprare quanto rischiare e come gestire l'operazione ok te lo diamo praticamente gratuitamente solo per chi si iscrive entro domani sera al corso così si becca l'albergo il software stock calculator i bonus l'iscrizione e tutto quello che c'è dietro ok corso super veramente corso super veramente ringrazio Enrico ho quasi finito la voce al corso sarò un pochino più pacato anche perché devo gestire la voce per due giorni però è giusto che nel momento in cui non ci conosciamo in questo momento tanti non li conosco alcuni li conosco non li ho mai visti ma è come se li conoscessi da sempre come Mauro che ci sta seguendo assiduamente però visto che non ci conosciamo l'unico modo che ho per arrivare a te è quello di far vedere la trasparenza che c'è insomma quello di farti vedere proprio il trasporto con cui ti trasferisco queste informazioni perché ci tengo veramente tanto hanno fatto la differenza per noi e non mi basta questo non mi basta a me non mi basta aver fatto la differenza io voglio farla fare anche ad altre persone veramente 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 quindi per chi si iscrive qui entro domani entro il 31 entro mezzanotte di domani si iscrive ci manda una mail a info chiocciolaprendolcontrollo.com e ci dice Stefano oi guarda mi sono iscritto ti ricordi ieri quello che mi ha detto mandami lo stock calculator e noi te lo mandiamo ok allora torniamo poi al 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 ma ho perso tutto c'ho il desktop pieno di roba questo oh la pagina del corso perfetto restiamo qua allora allora se ci sono domande in questo momento sul corso io rispondo fino a per altri 10 minuti dopodiché ci salutiamo perché siamo già arrivati a un'ora ma guarda io ci starei anche tutta la notte se volete se avete domande anche tutta la notte allora quali percentuali mensili o annuali di guadagno si raggiungono le percentuali di guadagno per esempio noi andiamo indicativamente intorno con la strategia di breve quest'anno siamo intorno al 25,11% ok ci siamo questo per rispondere a che comunque è una bella percentuale perché quando vedi come ha fatto vedere certe volte Gabriele le persone che ti promettono il 100% anno sappi che quelle si chiamano truffe perché il 100% anno non lo fa però negli anni costantemente non lo fa nessuno ci sono alcuni fra gli investitori più autorevoli del mondo che fanno insomma queste percentuali 20, 25, 30 al massimo per cento che sono però miliardari milionari miliardari la consapevolezza e la competenza per agire e per essere a importante già operativo dal giorno successivo al corso cioè tu vieni il sabato e la domenica e dal lunedì sei già operativo non è un corso che ti rilascia un diploma non me ne frega niente del diploma io voglio un corso e abbiamo voluto strutturare un corso che fosse pratico e che ti desse le strategie per fare la differenza già dal giorno dopo non è che torni a casa con l'agenda e con una carica emozionale elevata torni a casa con qualcosa di concreto con le strategie che io e Gabriele utilizziamo sia nel lungo periodo che nel breve periodo ok? sono di giù una materia va bene anche per me certo no soprattutto è soprattutto un corso per chi è di giù una materia perché chi è già chi si ritiene già bravo questo settore qui e pensa di essere già bravo e di ottenere grandi risultati non venire venga chi ha voglia di mettersi in discussione venga chi ha zero competenze venga chi ha la voglia di imparare e di mettersi ripeto in discussione di rivoluzionare la propria vita se in questo momento non ha voglia di rivoluzionare la tua vita non ha voglia di fare differenza non importa che vieni chi invece capisce ed è intelligente capisce che veramente può essere un'opportunità e che quelle 400 euro investite possono diventare nel tempo veramente un capitale importante è il benvenuto capitale minimo non esiste capitale minimo si parte da zero come si parte da mille come si parte da diecimila dipende dal tuo obiettivo finanziare in base da dove parti definiamo dove arrivare ok Valerio ok 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 molto importante no no Alberto specialmente te che sei un 94 se ti vuoi dobbene no 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 non c'è una cifra obbligatoria assolutamente assolutamente la differenza si fanno i soldi quando si acquisiscono le informazioni e le competenze non da non conta da dove parti conta da dove vuoi arrivare assolutamente ok Alberto quanti posti ci sono per l'hotel gratuito ce n'è ancora un po' 5 o 6 vai tranquillo tanto non è che facciamo 30 iscrizioni al giorno ti ho detto un corso da 50-60 persone per cui vai tranquillo che chi si iscrive entro domani sera all'hotel lo becca sicuro e anche credo anche lunedì mattedì sappiate però che cioè intanto non è che uno deve venire per forza perché c'è l'albergo se no l'albergo è una cosa di più che diamo ma quello che deve farti riflettere questo è un corso che vale veramente più di 1000 euro quello che ti deve far riflettere e che devi sapere è che dal 23 settembre aumenterà il prezzo perché non possiamo tenere un corso così a 447 euro è un'offesa all'intelligenza e alla conoscenza vorrei portare mio figlio che consigli di fare lui a 20 anni meglio portalo assolutamente assolutamente perché chi ha 24-25 anni potrà veramente essere il milionario di domani assolutamente ok altre domande dai 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 come si fa a trovare un broker un broker si identifica un broker che deve essere in un paese in cui c'è una legislazione strutturata non cipro non un broker che ha sede in un'isola in mezzo all'oceano pacifico deve essere un broker che ha sede a Londra a Milano piuttosto che a New York come il nostro interatti broker per dire un buon broker ora noi non consigliamo broker perché non è che lavoriamo per i broker come fa qualcuno noi utilizziamo quello perché secondo noi in questo momento è il migliore quanto tempo occorre per mettere in pratica le strategie va bene anche per chi è libero solo dopo cena le strategie come già fatto vedere richiedono quel tempo che ho già fatto vedere vale a dire la strategia di lungo un'ora al mese la strategia di breve un'ora a settimana che poi sia la mattina alle 7 o la sera alle 21 o il giorno alle 14 poco conta l'importante è che tu faccia determinate cose i profitti sono tassati al 26% sì vero i profitti differentemente dall'attività da lavoro dove le tassazioni sono al 50% i profitti sono tassati per lo più al 26% io Fineco posso utilizzare questo? sì la voglia può utilizzare anche Fineco va valutato un attimo costi che soprattutto sulla strategia di lungo però la strategia di lungo specialmente lo puoi fare veramente con un home banking da casa purché quella banca abbia un conto titoli Fineco ce l'ha d'accordo su IB mi spaventa un po' la gestione sulla dichiarazione visto che IB è americano sì in quel caso deve avere un commercialista che ti fa la dichiarazione ma ti assicuro che quando guadagni dei soldi il problema della dichiarazione è l'ultimo veramente cioè è una cosa è una cosa semplice da fare ecco l'importante è sempre pagare quello che c'è da pagare non bisogna sottraggere bisogna sempre fare i furbi per pagare meno cioè qui si guadagna poi le tasse ci sono da pagare si pagheranno da maggio 2017 ad oggi quanti corsi avete fatto? maggio 2017 ottobre febbraio giugno che è la quinta edizione questa qua e tra l'altro non sono nemmeno previste altre date in questo momento quindi quella che sarà da ottobre che è la quinta edizione è l'ultima del 2018 ah come posso contattarvi c'è un numero sì allora abbiamo un numero di telefono chi interessa segnatevelo anzi segnatevelo ve lo metto in chat che è questo qua ed è non è un numero verde un numero dove risponde una qualsiasi persona sconosciuta dall'altra parte è un numero a cui rispondiamo o io o Gabriele molto spesso Gabriele ok? qui rispondiamo noi questo numero qua 393-8184-163 numero di cellulare proprio cellulare personale questo qua insomma quello di ognuno di noi dove voi chiamate e noi rispondiamo semplicemente quali sono gli orari del corso gli orari del corso a parte sono riportati qua nella pagina www.prendocontrollo.com slash corso ve la repasto eccola qua sono riportati praticamente qua nel programma completo eccolo qui leggi il programma completo e gli orari sono il sabato facciamo la registrazione dalle 9 alle 9 e mezzo alle 9 e mezzo iniziamo andiamo avanti fino alle 13 pausa pranzo riprendiamo alle 14 e andiamo avanti fino alle 19 la domenica visto che siamo già lì in albergo iniziamo alle 9 la mattina e andiamo avanti con pausa pranzo e varie pause durante la giornata fino alle 17 alle 17 perché? perché magari c'è chi viene dal nord c'è chi viene dal sud e quindi diamo l'opportunità alle persone che sono venute da fuori di rientrare con tutta calma alle proprie abitazioni ok? è veramente un corso bellissimo chi c'è stato ci sta tuttora ringraziando riceviamo ringraziamenti continui chi non è d'accordo con noi è perché non ci conosce è perché non ha mai visto il nostro materiale è veramente un sogno che stiamo raggiungendo da questo punto di vista perché non è che ci siamo limitati alla propria al proprio orticello stiamo veramente diffondendo informazioni importanti siamo andati all'università di Siena ci hanno chiamato per presentare prendo il controllo come soluzione attiva al problema debito delle famiglie ci hanno ora chiamato anche in radio a Roma abbiamo pubblicato anche una foto mentre eravamo in radio a Roma a presentare a presentare prendo il controllo quindi cioè là fuori poi piano piano il lavoro fatto bene si vede ed è un anno che stiamo facendo questi corsi non è dieci anni è un anno perché prima non potevamo fare corsi perché non avevamo di fatto risultati concreti su cui poter elargire consigli adesso che ce l'abbiamo sentiamo anche in grado di prendere altre persone e di portarle esattamente dove siamo arrivati noi e con tanti studenti come avete visto poco fa dai risultati ci stiamo ampiamente riuscendo e siamo siamo più contenti per loro che per noi io sono contento più per loro che per me ok? altre domande? avanti tanto bevo ancora sali minerali fra l'altro prendo perché qui continua a far caldo però mi hanno detto che a Madonna di Campiglio parto sabato per Madonna di Campiglio addirittura la temperatura minima mi hanno detto è bassa bassa cioè c'è dai 4 ai 16 gradi io che amo camminare fai camminare insomma vediamo non ti ho qualche vestito più pesante si vede che sei sincero eh no io no io non si vede si vede penso che si percepisca anche cioè è il mio modo d'essere grazie del webinar grazie a te allora allora ci sono altre domande dai fate domande siete qua porca miseria visto che siamo qui a disposizione puoi spiegarmi qual è il senso di investire in asset che hanno rendimenti negativi tipo l'obbligazione a breve sì certo Giorgio te lo spiego perché l'investimento in vari asset vale a dire azionario obbligazionario lungo obbligazionario a breve oro e immobiliare è d'obbligo nel momento in cui hai una strategia di lungo periodo quindi la diversificazione su vari asset noi la facciamo per la strategia di lungo periodo lungo periodo significa dai 7 a 10 anni per la costruzione di un capitale futuro ci siamo costruiti un capitale futuro partendo da un capitale piccolo diciamo così investendo sui vari asset e perché investiamo su tutti gli asset? Perché siccome nessuno sa dove vanno i mercati e chi ti dice che sa dove vanno i mercati ti dice una grande bufala perché al mondo ci saranno sì e no 5 famiglie che sanno dove vanno i mercati e non siamo certo noi ma sono i Rockefeller e i vari capi capi mondo noi investiamo su tutte e 5 perché? perché sono asset che sono tra loro decorrelati quando sale l'azionario magari scende l'obbligazionario magari scende l'oro quando sale l'oro scende l'azionario l'obbligazionario quando sale l'obbligazionario scende l'azionario però l'abilità l'abile diversificazione in percentuali ovviamente che poi ti spieghiamo al corso del 27 28 ottobre diverse fra i vari asset permette sul lungo periodo di avere risultati positivi e non solo sul lungo periodo di avere risultati molto positivi molto più alti di quello di un semplice piano di gestione in banca ma nei periodi in cui c'è stata la più grande crisi che si ricordi a 1928 a oggi o il 2000 2007 in poi 2008 crisi Lehman Braver eccetera eccetera questo tipo di portafoglio non è arretrato nemmeno di un centimetro cioè è cresciuto nonostante i mercati andassero a picco e questo dipende strettamente dalle regole e dalle caratteristiche che contattistingue la strategia di lungo periodo di prendere il controllo gli abbiamo dato degli input in base a quali gli asset vengono da loro diversificati ma entrano ed escono al verificarsi determinate situazioni che poi ti spieghiamo al corso perché ci vuole anche lì tre ore ok per il breve periodo non si diversifichi gli investimenti no per il breve periodo no sul breve periodo andiamo a lavorare sull'azionario americano andando a definire quello che è il rischio massimo di ogni operazione quindi più di quello non si rischia e andando a scegliere attraverso un software che ti faremo vedere e che ti daremo al corso le azioni migliori le aziende che stanno meglio le aziende che stanno performando meglio perché se io voglio essere azionista di un'azienda voglio quelle aziende che stanno meglio voglio investire su un'azienda che viaggia non su un'azienda che sta male ok poi si può investire anche a di basso quando il volo di un'azienda scende ma anche questo te lo spieghiamo al corso del 27-28 ottobre azione americano perché è quello che va meglio giusto non tanto perché è quello che va meglio ma anche perché è quello che è più capitalizzato quindi essendoci molti più scambi sul mercato americano essendo aziende molto più strutturate rispetto a tante aziende italiane italiane sicuramente europee andiamo là dove c'è tanta liquidità in modo che i mercati in modo che le mani forti possono non è che possono arrivare a spostare gli equilibri dei mercati ok l'equilibrio di alcune aziende c'è il rischio cambio sì è vero Patti c'è il rischio cambio che viene annullato attraverso una formula che è nello stock calculevole abbiamo Patti cioè noi sappiamo veramente quello che facciamo lo vedete proprio al corso in questo l'estrema competenza ce lo stanno riconoscendo tutti sappiamo tutto quello che c'è da fare perché quando conosci le cose sai quello che c'è da fare ok 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 no no Patti non è per risponderti è che volevo tranquillizzarti da questo punto di vista tranquilla Massimiliano ciao grazie a te un grande abbraccio grande grande io mi diletto con le azioni italiane cioè ma funziona anche sulle azioni italiane Moncler te l'ho fatta vedere prima l'ho comprata sul Fossimib è un'azione mi sta dando tanta soddisfazione ma perché si sono verificate alcune caratteristiche che mi hanno portato a investire su Moncler è un'azienda che comunque ha un portafoglio e mi sta facendo guadagnare insomma qualche soddino ciao ok ok altre domande allora ETF Pino le stesse caratteristiche sì perché gli ETF hanno questa è una domanda tecnica Giorgio ma ti rispondo in maniera più generica gli ETF replicano esattamente l'andamento del mercato di riferimento quindi sono fondi a replica passiva se l'azionario sale del 10% l'ETF sale del 10% se quello strumento che dici tu sale del 5% quell'ETF sale del 5% quello che dobbiamo farvi vedere è solamente gli ETF quali sono gli ETF che utilizziamo noi ciao Giovanni ci vediamo il 27 ciao 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 altre domande altre domande altre domande ma poi siete tanti veramente ancora state lì collegati giusto per star collegati oppure cioè cogliete l'occasione per per farmi nero si dice no da le mie parti non vi vergognate tanto ogni domanda più o meno intelligente che sia serve sempre a risolvere un dubbio e quando si risolve un dubbio vuol dire abbiamo fatto un passo in avanti chiarissimo niente domande buonanotte ciao Enrico un abbraccio grande Matteo puoi fare il nome di un ETF allora i nomi di un ETF sono talmente complicati che se te ne facessi uno rischieresti i shares eccetera eccetera rischieresti di gli ETF si riconoscono se vai sul sito justetf.com gli ETF si riconoscono non tanto dal nome ma da un codice che si chiama codice ISIN il codice ISIN che ti spiegava il corso prendo il controllo è il codice fiscale l'ETF cioè quello che andiamo a vedere per andare a identificare un ETF preciso quindi non tanto dal nome sono nomi incomprensibili io che li vedo da anni manco ne ho memorizzati uno ma dal codice ISIN io catalogo gli ETF in base ai codici ISIN se volete dilettarvi sul sito justetf.com vedete un sacco di ETF ora non fate l'errore di andare su justetf e comprare i primi ETF e vengano al caso se no vi fate male teniamoci non voglio che questo sia un incentivo all'acquisto vi dico andate a vedere come funziona poi al corso vi diciamo quello che facciamo noi ok che perlomeno insomma c'è un risultato e può essere replicabile molti sottoperformano il benchmark ai leasing cosa vuol dire non ho capito la domanda io ho investito su un fondo corta che defini cosa dici buono non lo so claudio dovrei vederlo se ci mandi una mail magari vediamo ma generalmente sono tutti fondi che se ti vengono proposti da una banca o da un promotore finanziario ah sei tu che hai risposto ecco ho capito scusa se viene proposto da una banca o da un promotore finanziario sono tutti fondi che ovviamente fanno prima i loro interessi e poi forse alla fine fanno il tuo ok la strategia per i breve consiste sostanzialmente nel trading su azione non il trading non usare questa parola valerio non è trading ma è cogliere le migliori occasioni di business non lo facciamo trading che tutti i giorni guardiamo come sta andando l'azione come sta performando come si sta muovendo e chiudiamo un'ora due ore dopo no noi facciamo tutto a mercati chiusi quando i mercati sono chiusi e ne abbiamo voglia ci mettiamo lì piegiamo il bottone guardiamo praticamente le azioni che sortono fuori e le azioni che sortono fuori quindi l'andamento del prezzo di quell'azienda le migliori le selezioniamo e se si verificano certe caratteristiche che ti spieghiamo al corso allora a quel punto compriamo l'azione di quell'azienda ok ma non è training altre domande ok Claudio ti sta seguendo vedo il support team anche perché a voce non potrei risponderti altre altre domande altrimenti vi lascio il resto 5 minuti altri 5 minuti mentre vi fate domande ok ci vediamo 27 Stefano ok grazie ci vediamo 27 ok perfetto fatti ti aspetto buonanotte 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 ci sono software da acquistare per la tecnica no non c'è nessun software da acquistare Marco per la tecnica per il periodo quello che serve fra l'altro l'unico software forse se vuoi ma non è in vendita è lo stock calculator ma se ti iscrivi e tu domani o se sei già iscritto al corso ce lo chiedi e te lo mandiamo ok Marco ti ho risposto tutto ok scusate se ogni tanto guardo di qua ma ci ho lasciato grazie di tutto ok perfetto Giorgio domanda di Giorgio meglio un contotitoli con la banca Giorgio ok ci vediamo a Prato Prato non utilizziamo solo software gratuiti che diamo al corso ok né più né meno non è che al corso vendiamo altri software cioè al corso per il corso utilizziamo software gratuiti che diamo al corso come si ha la conferma dell'hotel incluso si sa prima o dopo il pagamento no no Valerio te lo dico già da ora se ti iscrivi quando pensi di iscriverti la domanda se ti iscrivi entro la prossima settimana l'albergo ce l'hai però se ti iscrivi entro domani sera c'hai anche lo stock al poleno ok vai tranquillo Valerio a Valerio se si iscrive l'hotel glielo pago vai ok Valerio ok grazie buonanotte ok sì anche perché poi quando è una cosa importante ha detto il support team in maniera intelligente più di quanto l'abbia fatto io nel momento in cui l'albergo non è più compreso lo togliamo dalla dalla landing è ovvio nel momento in cui l'albergo non è più compreso la landing scompare state tranquilli sì Emanuele è possibile è possibile ok di niente ci mancherebbe altre domande visto che siete ancora tanti ok Giorgio lo sta seguendo il support team vale il support team fra l'altro il support team tante volte è proprio seguito da ragazzi che hanno seguito corsi che poi hanno deciso di continuare di stare con noi e che adesso stanno rispondendo alle vostre domande per dire ma ci sono anche persone che fino a un anno fa manco avevamo visto un grafico in vita loro ok Valerio no il corso è quello cioè il corso nasce e finisce cioè quando ti dico e ti daremo le strategie noi daremo le strategie ok Giorgio seguito dal la support team e altre domande se no io signori vi saluto mi ringrazio di essere siamo sono le 11 e 15 vi ringrazio di essere stati qua con me vi ringrazio del tempo dedicato per me è sempre un onore vi voglio bene veramente l'ingraziamento più grande è quello di avermi dedicato il vostro tempo e soprattutto il ringraziamento più grande dovete fare a voi che siete lì dall'altra parte ad ascoltare e a capire se veramente c'è una possibilità per vivere felici in questo paese che non sta vivendo sicuramente un momento positivo soprattutto da un punto di vista dei numeri ma sappiate che la soluzione c'è sappiate che la soluzione si può trovare è solo una questione di decidere smettere di rimandare e di decidere una volta per tutte ok io rimango ancora cinque minuti qua con voi per rispondere alle domande e vi saluto e vi ringrazio un abbraccio grande 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 ciao ciao